Verrà riconsegnata alla comunità lunedì 19 dicembre, giorno del nono centenario della morte di San Berardo, patrono della città di Teramo, la cattedrale dopo i lavori di restauro e messi in sicurezza, conclusi in appena 18 mesi. A giugno 2021 sono iniziati gli interventi a seguito dell'ordinanza numero 105 del commissario straordinario Giovanni Regnini, che ha snellito le procedure facendo in modo che le diocesi operassero come stazioni appaltanti. Si tratta della prima cattedrale del cratere sismico 2016 ad essere riconsegnata e dove non è stata mai interrotta l'attività di culto. Con l'apertura dell'anno berardiano si riaprono quindi del tutto gli spazi del luogo sacro più caro ai Teramani. Un evento significativo per la vita della nostra diocese, ma soprattutto questo grande dono di ritrovare la cattedrale restaurata e anche la cappera di San Berardo. Il mondo greco per tutta la chiesa diocesana è un grande dono e anche e soprattutto una sobbicizzazione a vive con più intensità, il nano berardiano, che vorrebbe essere una grande occasione per recuperare e rilanciare il moto di San Benedetto, Orette Labora. San Berardo era un monaco benedettino e credo che il moto Orette Labora può essere davvero un punto di partenza per una riflessione, non soltanto ecclesiale ma anche di carattere culturale coinvolgendo tutte le realtà del territorio. Intervento di restauro sotto l'attenta supervisione della soprintendenza all'Aquila Teramo è stato eseguito dalla ditta in sinergia con l'ufficio speciale per la ricostruzione 2016. È caratterizzato da alcune particolarità costruttive, alcune delle quali finora mai applicate. Sono stati fatti degli incatenamenti, è stato ricostituito quell'effetto scadolare che è fondamentale per garantire la sicurezza sotto sisma. Fra i vari interventi ce n'è uno che mi preme molto, che trovo molto significativo e anche direi unico che è stato fatto qui, quello cioè di utilizzare dei capochiavi, quindi quelli che andiamo a vedere, gli effetti finali degli incatenamenti, che sono realizzati con un materiale chiaro che si va ad abbinare e ad armonizzare con una muratura che è fatta di una pietra locale chiara. Quindi è una scelta che forse è diversa dal solito, una chiara denuncia che c'è un intervento moderno che serve a dare sicurezza all'edificio, che si dichiara quindi nella sua modernità, che non entra in contrasto ed è totalmente rispettoso del monumento.